Benvenuti nel mondo degli orologi Sandoz. Sandoz è un marchio svizzero di orologi con una lunga storia che risale al 1870. Fondato dallo svizzero Henri Sandoz, l'azienda ha trasmesso la sua passione per l'orologeria di qualità attraverso le generazioni fino ad oggi. La filosofia di Sandoz è quella di creare orologi di alta qualità a prezzi accessibili. Questo obiettivo è il motore dell'azienda, che si impegna a offrire orologi di lusso ad un prezzo competitivo. La collezione di orologi Sandoz è caratterizzata da un design elegante e sofisticato, con un'attenzione particolare ai dettagli. Gli orologi Sandoz sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, oro e pelle, e utilizzano meccanismi svizzeri di precisione. L'azienda è impegnata nella produzione di orologi sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Sandoz utilizza materiali riciclabili e riduce l'impatto ambientale della produzione dei suoi orologi. Ogni modello è studiato per soddisfare le esigenze di chi cerca un orologio di alta qualità, dalla misurazione del tempo alle funzioni avanzate, fino alla personalità e allo stile.